Bella a tutti ragazzi, qua è Orgasmic con il secondo episodio del Bale's Road to Tottenham In questo episodio, come vedete, compro Kabul, ma prima di concentrarmi sull'episodio proprio in generale vorrei chiarire un paio di cose che mi sono state chieste e che mi sono dimenticato di dire nell'altro episodio, ovvero questa serie, gli episodi di questa serie usciranno ogni due giorni, nel senso un giorno sì, un giorno no proprio perché il 3 devo partire, quindi non riesco, non so se riuscirò neanche a finirla questa serie quindi dovrò fare il più veloce possibile, quindi un giorno sì, un giorno no, ci sarà appuntamento con questo episodio poi, molti mi hanno chiesto come faccio ad avere tutti quei crediti in questa serie semplicemente perché mi sono spostato da un account all'altro 150.000 crediti per comprare appunto tutta la squadra non è come a Road to Glory che io prendo, cioè vinco le partite con quei soldi o le divisioni e con quei soldi mi copro i giocatori no, è tutto il contrario, cioè i soldi già ce li ho perché altrimenti verrebbe una cosa molto lunga pensate a Lloris che costa circa 40.000 crediti e come faccio a comprarmelo? È un casino comunque, concentriamo la sua partita incontro un avversario che è una squadra forte, olandese, quasi tutta completa se non erro arriva il gol sia di Wijnaldum su calcio di rigore il rigore è abbastanza netto e poi un gran gol con Ola John però c'è da dire che l'avversario era abbastanza pace abuser e contro i miei bronzo i vari John, Emnes, Wijnaldum erano troppo veloci e quindi era un casino però riesco a pareggiare incredibilmente prima con con, o non mi ricordo, ah con il cazzone Koch e anche con Dembélé poi dopo pochi secondi al gol di Dembélé l'agilità e la velocità di Wijnaldum credo che si pronunci così, mi fa perdere la partita facendo il gol del 3-2 anche se come vedete dai dettagli, dalle statistiche la partita l'ho fatta più io che lui, diciamo comunque rimango a 9 punti, non un punto in più cioè magari a Reggio non meritavo comunque decido di fare il secondo acquisto dell'episodio e deciso di cambiare un po' il reparto offensivo infatti compro Dembélé, non si, buonanotte Dembélé, Defaut Germain Defaut ha circa 1400 crediti se non erro poi do un contratto a Kabul che li aveva esauriti tra l'altro sono riuscito a prendere un contratto ora a 200 crediti una cosa incredibile questo è perché i server che fanno tanto cagare qui di FIFA 13 si erano tipo bloccati allora io ero lì nelle aste e sono riuscito a prendere 200 crediti una cosa incredibile perché si vendono circa 500-600 addirittura no, forse 500 è il massimo, non lo so comunque la squadra è una squadra abbastanza buona ora ci concentriamo sulla seconda partita e questa sarà una partita fondamentale incontro un avversario che è una squadra brasiliana una bella squadra, devo essere sincero molto competitiva, devo dire però, però, però non ha fatto i conti con Sembolo il mio attaccante potentissimo che fa un gol molto bello, un pallonetto veramente molto alto un lancio, se non sbaglio, di Bale poi addirittura un gol al volo di destro su cross sempre di Bale se non erro ancora un gol abbastanza difficile da fare considerando che è un bronzo non raro e poi addirittura arriva il gol del 3-0 tripletta di Sembolo che da questo momento in poi verrà soprannominato la bestia del Congo veramente fortissimo una bestia infatti l'avversario è costretto a chiudere il collegamento a uscire dalla partita questo mi fa molto incazzare anche perché cosa te ne frega, continuo a giocare almeno vinciamo più crediti no, anzi, sì, appunto almeno vinciamo più crediti invece no, praticamente sono quasi quasi dimezzati i crediti comunque, prima della terza partita decido di comprare Scott Parker però mi accorgo che secondo me sto facendo un po' troppi acquisti oro e infatti dal prossimo episodio magari acquisteremo qualche giocatore argento o addirittura bronzo del Tottenham perché ne ho visti e ce ne sono perché se no riusciremo a cioè arriveremo a completare tutta la squadra molto prima rispetto a, che ne so alla seconda divisione comunque come vedete la squadra sta prendendo forma in qualsiasi caso abbiamo già 1, 2, 3, 4, 5 giocatori oro cioè 5 giocatori del Tottenham quindi questo mi fa molto piacere decido di dare anche una forma a Bale perché aveva circa 90 e mi serve Bale bello pompato bello in forma comunque siamo in quarta divisione non cambia molto dalla quinta manca cioè serve solo un punto in più necessario per passare comunque incontro una squadra che ha dei giocatori singolarmente molto forti però come intesa non ci siamo addirittura il primo gol mio arriva con una sciocchezza difensiva del portiere del mio avversario Defoe arriva in sacca con il suo primo gol della serie grande Defoe l'avversario però non molla anzi in quel momento stava giocando anche molto bene fa un gol con Castagnos di testa derivante comunque dalla mia sciocchezza difensiva poi comincio a dilagare e Dembélé segna il gol del 2-1 poi non c'è stata proprio più storia arriva addirittura anche il gol su calcio d'angolo di testa di Kabul quello che abbiamo acquistato all'inizio di questo episodio poi arriva un gol molto fortunoso di Devit Devit derivante da una deviazione dell'avversario in difesa che ha spiazzato il portiere e poi arriva il gol finale del gol del 5-1 di Grec Grec boh un gol abbastanza carino considerando che è un bronzo l'avversario mette in pausa e anche esso spegne e esce per cui vinco i tre punti vinco pochissimi crediti purtroppo comunque l'episodio finisce qui vi do appuntamento al terzo episodio che si terrà appunto tra due giorni vi invito a lasciare un bel mi piace un commento ovviamente a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto bella ragazzi ci vediamo al prossimo episodio che ci vediamo al prossimo episodio